È tutta una bufala. La vendita della WWE al PIF, il Fondo Pubblico dell'Arabia Saudita, secondo alcuni dei più importanti giornalisti americani del settore wrestling, sarebbe una balla. Questo non significa che il PIF non possa diventare un interlocutore della WWE per acquisirla, ma al momento, stando alle fonti che tra poco citerò, è una voce di corridoio che inspiegabilmente, sfruttando le correnti del web, è venuta a galla e viene presa da tutti come la verità, quando non lo è. Beh, qui c'è anche un'indicazione sul titolo in borsa WWE che ha aperto molto bene a 92,50 dollari, poi è sceso attorno ai 90, comunque sono dei bei soldoni, visto che c'è stato un incremento azionario di valore del 27% da quando Vince ha annunciato il suo ritorno nella federazione e di conseguenza nell'azienda. Allora, il primo a far suonare la campana del sospetto è Ariel Elwani, giornalista di arti marzialimiste e di wrestling, ex cliente di Nick Khan, oggi unico amministratore delegato della WWE, che prima gestiva talenti, giornalisti, sportivi e gente dello spettacolo in varie agenzie. E Ariel ha twittato. Malgrado diversi report dicano il contrario, non c'è in questo preciso momento alcun accordo per vendere la WWE al PIF o a qualsiasi altra entità. La WWE sta ancora valutando le sue opzioni, sta facendo le dovute indagini, sta facendo le dovute verifiche. Anche TMZ, un sito che di solito è a deriva scandalistica, in America ha scritto la stessa cosa, ma direi che è molto più importante il messaggio di Brandon Turston, che è la voce e il volto principale di Wrestlingomics, un sito che cito spesso durante le mie dirette su Twitch. Wrestlingomics è uno spazio che segue e tratta il wrestling solo dal punto di vista dell'economia. E lui dice sono d'accordo con quello che ho letto da altre parti, ho fatto delle indagini, ho chiesto a chi potrebbe sapere all'interno della WWE e la storia che sta girando, quella legata alla vendita all'Arabia Saudita, non è vera. Così come non è vero l'accordo quasi raggiunto che trasformerebbe la WWE in azienda privata. Può accadere in futuro? Sì, mettiamo le mani avanti, ma secondo queste due fonti non c'è in ballo adesso quello che il web sta scrivendo. Anche Fightful Select nella sezione a pagamento e in vari su Twitter, se non ricordo male, quindi sui social, anche Fightful Select ha ribadito la cosa. Attenzione, state correndo dietro ad una bufala, a un qualcosa che ha creato un allarmismo ma per la quale non ci sono né garanzie né certezze, non ci sono prove. C'è qualcuno che ha fatto un illazione ma oltre a quella non c'è nulla. Ed è una situazione molto complicata perché chi quelle voci le ha messe in giro, e siamo andati a vedere, l'abbiamo visto nel primo video della serie odierna, comunque si sta giocando la faccia. Ci ha messo la reputazione, ci ha messo, insomma, si è messo in gioco. Dunque, attenzione perché la situazione sembra più complicata del previsto. Io non so dirvi chi ha ragione, però qui c'è una galleria di persone, di personaggi solitamente molto attendibili. Poi magari il sito che per primo ha dato l'allarme, magari ha lo scoop decisivo, ce l'ha in mano e ha ragione lui. Però occhio, come spesso dico, prudenza, anche nei ragionamenti, anche nelle reazioni, perché adesso effettivamente le cose si fanno assolutamente, come dire, impossibili da analizzare, perché non sappiamo dov'è la verità in questo esatto momento.